Grazie a tutti e tutti di essere qui, noi ci teniamo a ringraziare chiaramente l'autore che è qui con noi per parlare del suo ultimo libro, ringraziamo anche il professore Gianluca Fulvetti che ha accettato di essere anche qui con noi per parlare del libro del professor Gobetti, ne approfitto e ne approfittiamo per ringraziare anche l'Università di Pisa che ci ha concesso questo spazio seppur online e anche la casa editrice La Terza che ha sponsorizzato l'evento anche sui social e ci ha anche fornito i libri, quindi un ringraziamento sentito anche Allora, adesso passerei la parola a Michele così introdurrà i due nostri ospiti di oggi Allora sì, buongiorno a tutti, l'autore non penso che abbia bisogno di molte presentazioni visto che è diventato particolarmente famoso forse anche suo malgrado, anzi sicuramente suo malgrado negli ultimi tempi, è Rigovetti ricercatore indipendente o meglio storico freelance e ha conseguito due dottorati di ricerca all'Università di Torino e all'Università della Repubblica di San Marino e si è occupato principalmente di storia della Jugoslavia e storia della resistenza jugoslava e in particolare oltre al libro che presentiamo oggi appunto e Allora le foibe, non devo ricordare altre due opere di cui è stato autore, Alleati del nemico l'occupazione italiana in Jugoslavia, scusate, 1941-43 e La resistenza dimenticata a partigiani italiani in Montenegro, 43-45, tutti per la casa editrice e la terza. Il professor Gianluca Fulvetti che appunto ringraziamo per aver accettato il nostro invito, è professore associato all'Università di Pisa di storia contemporanea e si è occupato principalmente di storia dell'antifascismo e della resistenza storia della guerra e dei crimini di guerra e è stato membro del comitato scientifico dell'Istituto Parri e del comitato scientifico anche del progetto Atlante delle stragi naziste in Italia diretto dall'Istituto Parri e finanziato dalla Repubblica federale tedesca e in particolare poi si è occupato anche di, nello specifico diciamo, di stragi nazifasciste in Toscana su cui ha scritto diversi articoli e volumi e volevo ricordare solamente un libro curato insieme a Paolo Pezzino dal titolo Zone di guerra, geografie di sangue, Atlante delle stragi naziste fasciste in Italia appunto. E appunto prima di lasciare la parola al professor Fulvetti prima e poi ai Rigobetti, volevo ricordare a tutti di tenere il microfono spento, questioni tecniche che vanno sempre ricordate e poi successivamente se, quando ci sarà lo spazio per le domande, vi chiedo di permittarvi alzando la mano e poi attendendo il microfono. E prego, professore. Bene, grazie, mi sentite, datemi un feedback che tutto torni. Allora, intanto ringrazio a voi per aver organizzato questo ciclo di presentazione che ho visto, quindi insomma che ci consentirà di toccare e discutere di tante questioni importanti. Sono molto curioso di discutere del libro di Naso su Martin Luther King, insomma c'è la ripubblicazione della discussione di un classico come utopisti e riformatori italiani di Delio Cantimori, quindi avete fatto sicuramente un bel ciclo di seminari. Sono anche molto contento di essere qui con Eric, con cui insomma ci conosciamo ormai da un po' di anni e devo dire la scelta importante è di aprire questo ciclo di presentazioni con il suo libro. E l'importanza, che è un'importanza non soltanto di natura scientifica, sta proprio nell'incipit del libro che vi vado a leggere. Il 10 di febbraio 2019, quattordicesimo giorno del ricordo, parlavo in una sala di Pordenone presidiata dalle forze dell'ordine. Uno scenario simile mi aspettava nel 2020 a Torino e a Brescia in un contesto generale di intimidazioni, minacce e insulti mediatici, animato da vari gruppi di estrema destra. Il mio non è un caso isolato, i colleghi che si occupano di questi temi sono sempre più spesso presi di mira dagli stessi ambienti politici. L'accusa ricorrente è quella di negazionismo delle foibe, un'espressione emotivamente efficace fino ad ora utilizzata solo in riferimento a chi nega la Shoah. In questo modo, con un'accusa infamante e infondata, si vuole screditare il lavoro degli storici, impedire loro di parlare di un tema delicato, di contestualizzare il fenomeno, di raccontarlo in maniera corretta. Quindi attorno ai temi e alle questioni che intrecciano la storia del confine orientale o forse più corretto dire dell'alto adriatico, perché poi è per noi il confine orientale, ma per gli sloveni e per i croati lo vedono naturalmente dall'altra parte. È in corso una dialettica culturale e politica che mette in discussione la libertà della ricerca e il limite invalicabile del confronto tra le tesi, le interpretazioni e le memorie. Questo lo richiamo perché magari chi ci ascolta già lo sa, ma è bene ribadirlo rispetto alle condizioni in cui Eric e altri studiosi con lui si sono trovati ad operare in questi anni e alle manifestazioni più recenti. C'è stata una presa di posizione direttamente della Cisco, dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Una bella lettera aperta, scritta, promossa da due o tre colleghi dell'Università di Padova, Giulio Albanese, Filippo Focardi e Carlo Fumian, che ha visto una grandissima adesione della nostra comunità scientifica. Qual è il nodo del contendere? Il nodo del contendere è che esisterebbe sulla questione delle foibe dell'Esodo una verità ufficiale. Foibe d'Esodo starebbero dentro un disegno di pulizia etnica condotto dal comunismo titino per cancellare la presenza italiana in quell'area. Una vicenda a cui si legherebbero numeri esatti e precisi e certi e guai a metterli in discussione, di vittime e di esuli. È una narrazione ufficiale in cui con grande fatica trova spazio la riflessione sulle responsabilità storiche del fascismo, cioè su quello che è accaduto prima dell'8 di settembre del 1943. Chiunque problematizza, discute, contestualizza è tacciato, come abbiamo letto nella pagina di Eric, di negazionismo al massimo di riduzionismo. E si è arrivati a due pronunciamenti di due consigli regionali nel nostro paese, il Friuli Venezia Giulia nel 2019 e il Veneto in questo 2021, che hanno approvato mozioni che di fatto hanno messo all'indice istituti culturali che questo fanno di mestiere. Discutono in maniera critica, mettono a confronto tesi, interpretazioni, riflettono sulla storia del confine orientale, tra cui lo stesso istituto storico della resistenza di Trieste, che è stata la culla di questa riflessione storiografica, nata al di fuori per molti versi dell'università italiana o comunque intrecciata, penso ai lavori di Elio Api, di Teodoro Sala, di Enzo Collotti, nati alla metà degli anni 70 quando c'è il processo per la risiera di San Sabba, per l'operazione Reinhardt. E in un passaggio di consegne la trasmissione alla generazione successiva di Anna Maria Vinci, Raul Pupo, Franco Cecotti, fino ad arrivare poi all'ultima generazione in cui sta anche Eric Gobetti. Quindi queste polemiche hanno coinvolto tutte queste persone, per esempio lo stesso Raul Pupo che come ricordano Focardi, Albanese e Fumian in quella lettera, nel 2012 era stato chiamato al Quirinale a tenere l'orazione ufficiale per il giorno del ricordo. Quindi vuol dire che qualche cosa è cambiato nel corso degli anni, quindi questa forse è anche la prima questione che vorrei porre ad Eric. Siamo in una fase storico-culturale molto particolare, le polemiche sul confine orientale stanno dentro un problema più ampio della fatica con cui la destra italiana si interfaccia a un racconto pieno di quella storia e della storia del fascismo. Il problema è la mancata storicizzazione. E si è forse creata una saldatura tra un'area politicamente definita della destra politica, della destra culturale, che parla in pubblico, che parla nei consigli comunali, che parla molto sul web. Di questi luoghi ne nascono continuamente, forse come studiosi dovremmo tenerli stabilmente di più sotto controllo e prestarci attenzione. E' un'area più larga di cittadini, che hanno una percezione nebulosa rispetto al nostro passato storico e che forse, come dire, il loro senso comune sul passato pende un pochino di più dalla parte di quella che è diventata una narrazione egemonica. Quindi il libro nasce in questo contesto con l'obiettivo appunto di decostruire questa narrazione egemonica e non per niente sta dentro questa collana promossa da Carlo Greppi che si intitola Fat Checking, che è un'espressione tipica del linguaggio giornalistico e ormai del linguaggio digitale. Andare alla scoperta delle fake news. E non è semplice, non è assolutamente semplice, perché come sappiamo nel web del mondo dei social più che il fat checking funziona il confirmation bias, cioè le persone ci vanno a cercare la conferma di quello che già pensano. Insomma questo è un motivo in più per cui è importante la pubblicazione di questo libro, preceduto da Che cosa serve l'antifascismo di Carlo Greppi, da E allora i partigiani di Chiara Colombini e come si diceva prima dovrebbe uscire un libro di Francesco Filippi che immagino sarà in continuità con il suo impegno culturale, con i suoi libri di Bollati Boringhieri sul fascismo, ha fatto anche cose buone. Quindi questo per restituire diciamo così l'operazione culturale che sta dietro a questo libro. E per l'appunto ti dicevo, come si è arrivati diciamo così qui? Cioè il fatto che fare discussioni pubbliche, interventi scientifici e ricerca su questi temi qui si è diventato così complicato. Ormai abbiamo alle spalle quasi vent'anni di storia del giorno del ricordo, di cui te non fai naturalmente la storia nel libro, però forse sarebbe anche il tempo giusto per discuterne, che nasce con un imprinting politico-culturale molto chiaro. È una risposta al 27 di gennaio. Stefano Pivato ha parlato di lottizzazione della memoria. Non è un caso che la prima grande, diciamo così, opera di comunicazione di massa che passa attraverso la RAI, che è Il cuore nel pozzo nel 2005, l'autore sia lo stesso regista che ha fatto lo sceneggiato su Perlaska. Quindi anche su questo, come dire, c'è un abbinamento. E forse, ecco, in quella prima fase c'è stata anche una spinta in conseguenza dell'approvazione della legge a irrobustire le linee di ricerca, a lavorare sulla divulgazione. Ci sono stati enti locali capaci fin da subito di inserire la riflessione su Foibe ed Esodo all'interno di una prospettiva più lunga, che, come dire, senza l'incendio della Casa della Cultura di Trieste, slovena, del luglio del 1920, senza tener conto delle memorie di Guido Miglia, che racconta di come lui, insegnante elementare, si trova costretto a imporre l'italiano ai bambini e trent'anni dopo capisce che quella violenza subita in quei bambini diventati adulti è una chiave per capire quello che succede durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, senza questo non si riusciva a comprendere, diciamo così, il fenomeno nel suo insieme. Penso all'impegno che ha avuto su questo la regione toscana, che è un impegno ormai storico. E forse si è anche aperto uno spazio di confronto tra memorie, tra la memoria della comunità degli esuli, raccolta all'interno delle loro associazioni, una memoria certo identitaria, selettiva, fortemente nazionalista, che però attendevano un, diciamo così, un riconoscimento. Per cui forse in una prima fase un confronto di questo tipo è stato utile. Non lo so, faccio il confronto con il lavoro che abbiamo fatto sulle stragi naziste. Altro fenomeno su cui si sono innestate dinamiche di memoria divisa, di memoria conflittuale. La ricerca storica, definire un perimetro di fatti condivisi, ha favorito un confronto e una, diciamo così, l'avvio di una riconciliazione. Certo, non semplice, però un lavoro su questo piano c'è stato. Insomma, io ricordo i viaggi della memoria fatti con l'Istituto della Resistenza di Lucca, nel 2013 Basovizza e la risiera di San Sabba, nel 2014 con un percorso ancora più largo che viene insieme la visita a Pola e la visita a Rab. È il confronto, la discussione serrata tra gli iscritti dell'Ampi di Lucca e i rappresentanti dell'Associazione degli Esuli Giuliano Dalmati della nostra città, passato attraverso un percorso preliminare di preparazione a quel viaggio. Però la capacità di costruire tutto sommato, ripeto, uno spazio di dialogo. Ecco, com'è che è successo che poi in realtà negli ultimi, ce lo dirai te, tre, quattro anni, cinque, forse c'è stata una radicalizzazione e una polarizzazione ulteriore da parte di queste posizioni. Da quando, come dire, la legge del ricordo, come scrivi, rischia di trasformarsi non più nel ricordo delle fobie dell'Esodo, ma in una festa e in una commemorazione di tipo fascista? Perché è così difficile fare un lavoro come il tuo? Mi ha colpito che c'è una voce su Wikipedia che ti riguarda, che forse probabilmente è stata costruita proprio a margine di queste polemiche. Non penso che sia una voce che è lì da dieci anni, Eric, per quanto di queste cose te ne occupi ormai da… ecco, sono stati citati prima i tuoi libri, il primo che è l'occupazione allegra di Carocci esce nel 2007, quindi si parla ormai di 14 anni fa. Quindi il libro esce in questo quadro, sono 110 pagine dense divise nove capitoletti rivolti non agli storici ma ai cittadini comuni, che provano a raccontare la complessità di quella pagina di storia. Quindi è un libro di divulgazione e forse proprio per questo, voglio dire, è difficile. Noi siamo abituati a scrivere appoggiandosi sulle fonti, sulle note, se pensiamo anche come sono impaginati i nostri libri, è come se ne avessimo bisogno. Quando si scrive un libro che è un libro di divulgazione in cui tutto questo viene meno, non è un passaggio, voglio dire, scontato. Si devono misurare le parole in maniera ancora di più attenta e certosina quando si va a che fare, diciamo così, con una tematica come questa. Il libro serve a tre cose. De costruire alcuni assunti di quella narrazione ipernazionalista di destra, forse egemonica in questo momento nel nostro paese che abbiamo richiamato. Introdurre degli elementi di criticità, cioè far vedere che su alcuni passaggi ancora oggi gli studiosi si confrontano e non li interpretano in una maniera univoca. Il linguaggio della storia non è mai sì sì, non no. Faccio questa citazione che è un passaggio del Vangelo di Matteo, perché mi viene sempre in mente che la citava spesso Claudio Pavone e mi è capitato di sentirgliela citare almeno tre volte in alcuni suoi seminari. Citazione evangelica che poi prosegue, il di più viene dal maligno, invece è in quel di più lì rispetto al linguaggio del sì sì, non no che sta il corretto lavoro dello storico. Terzo aspetto, contestualizzare. Contestualizzare in un arco lungo, diacronico e più largo la storia europea della transizione dalla guerra al dopoguerra. E mi ha molto colpito, sono andato a leggermi un po' di recensioni, Eric, del libro che si trovano in rete. C'è un articolo sull'avvenire di una giornalista che poi ho scoperto che è probabilmente figlia di Esuli, che è una recensione piuttosto dura, ben due volte mi pare scrive Gobetti contestualizza e quindi giustifica, che è un cortocircuito da un punto di vista semantico che è naturalmente inaccettabile per noi studiosi. Quindi questi sono i tre approcci alla questione che stanno nel libro, che è tratteggiato veramente come un vademecum che tu hai consegnato al cittadino comune. Fatemi dei segnali quando valutate che io vado, come dire, troppo lungo. La prima questione, l'italianità di quelle zone, che è un paradigma assolutizzato e tra virgolette astoricizzato, a partire proprio da ciò che accade all'indomani del 10 febbraio del 1947, della possibilità per gli italiani di optare per il rientro in Italia, per il plebiscito di italianità. Invece, come sappiamo, in quelle zone c'è un incrocio lungo di mondi, il mondo slavo, il mondo germanico, il mondo italiano, di lingue. È un'area meticcia, perché così va raccontata. Pensiamo soltanto al fatto che due bandiere di italianità, che sono Fiume e Trieste, come nascono? Nascono in realtà in contrapposizione all'egemonia economica che la Serenissima ha in quelle zone. È di crescente, come dire, un'area meticcia, di crescente incontro-scontro tra due nazionalismi. Uno più di natura etnica, che è il nazionalismo slavo. La nazione si definisce sulla base della continuità linguistica e biologica. E uno più di tipo culturale, che è quello italiano, in questo caso, la stessa vicenda di Oberdan sta lì, come scrivi, a dimostrarcelo. La madre è una slovena e lui porta un cognome tedesco che sceglie di italianizzare. Forse su questo meritava qualche accenno un pochino di più alla storia dell'irredentismo di quelle zone, anche di quelle componenti laiche, repubblicane, interventiste nella Prima Guerra Mondiale, che hanno un loro tessuto associativo, che poi, come dire, vengono, tra virgolette, inglobate dal fascismo nel dopoguerra, ma magari non completamente, perché poi è una tradizione a cui si richiama l'antifascismo giuliano triestino anche tra il 43 e il 45, che certo parla il linguaggio della nazione, discute del confine dove porlo, parla di italianità, ma magari parla anche di democrazia. Ma su questo poi dopo ci torno in chiusura. Certo, e di come, dicevo, aggiungo, la Prima Guerra Mondiale esaspera questa situazione, per quelli che sono gli schieramenti e le minoranze che combattono l'esercito asburgico, quindi si esaspera la conflittualità. Certo poi lo scarto decisivo è quello del dopoguerra, quando in tutta Europa si costruiscono perimetri statali che sono etnicamente omogenei, perché quella è la linea con cui cartina la mano a Versailles si ridefiniscono i confini, pensiamo all'Albania, pensiamo alla guerra greco-turca, con tutto quello che comporta una volta, voglio dire, prima si stabiliscono i confini, poi si scatena la guerra e poi la guerra viene ridefinita, confini definiti e c'è questo scambio di popolazione che vanno dall'Asia minore fino in Grecia e viceversa. È la fase in cui si avviano politiche di italianizzazione forzata e snazionalizzazione, citavo appunto prima le memorie di Guidomiglia, italianizzazione linguistica, religiosa, cambiano i vescovi per esempio, vengono cancellate le forme di sociabilità e di socialità di quella che diventa la minoranza, come vengono chiamati gli alloglotti, e che hanno due conseguenze. La prima è l'impoverimento economico-sociale di questa minoranza, per cui si creano le premesse di una dimensione di conflitto sociale e di lotta di classe che sta anche dentro il 1945. E poi l'esodo, perché nel racconto pubblico se ne parla in relazione all'italiana e alla fine della seconda guerra mondiale, qui si parla dalle cifre che tu riporti, 60 mila che si spostano nei confini del neonato regno di Jugoslavia, ma altre migliaia che si dispergono per l'Europa. E quindi è una forma di esodo, ma chiamiamola anche di fuoriuscitismo politico, perché poi c'è anche quella dimensione. I fascicoli del casellario politico centrale e del Tribunale speciale dello Stato sono lì a dimostrarcelo. E sono fonti, voglio dire, straordinarie, penso al libro, all'utilizzo che ne ha fatto, al libro di Marta Verginella, Il confine degli altri, le sentenze del Tribunale speciale dello Stato, le relazioni dei pubblici ministeri quanto parlino un linguaggio che ormai è un linguaggio razzista nei confronti degli oppositori politici che sono identificati appunto con una razza inferiore. Su questo, e quindi vengo poi a un altro punto del tuo percorso a tappe, sta la guerra sporca che gli italiani combattono dentro la seconda guerra mondiale. E qui, come si diceva prima, ci sta poi la matrice del Gobetti ricercatore, insomma, tema su cui ha fatto ricerca negli anni. Ha irrobustito un filone storiografico, lui con altri, Federico Goddi, Costantino di Sante, Davide Conti, anche con un tratto generazionale di studiosi giovani quando si sono affacciati a quelle vicende. Sono tutti aspetti noti ormai, in buona misura anche agli spezzoni più avvertiti della nostra comunità nazionale, ai nostri studenti, perché li raccontiamo, le circolari trecci di Roatta, le stragi di Pudon e di Dane, a cui è legata una delle fantomatiche fake news che girano in rete ormai da 15 anni, che è la fotografia di quei cinque partigiani, se non sbaglio, comunisti che vengono fucilati dagli italiani e lì c'è un ribaltamento assoluto, vengono presentati quelli come vittime della violenza titina. Un sistema concentrazionario fascista, quindi è effettivamente una guerra sporca che il fascismo porta avanti, caricata di motivazioni che mescolano ideologia e linguaggio razziale. Abbiamo discusso in Dipartimento alcuni anni fa una tesi molto bella di Lorenzo Pera, che poi è rifluita in un libro che ha raccontato la storia dei battaglioni squadristi, di quei fascisti quarantenni che si vogliono arruolare a tutti i costi, insomma i vertici dell'esercito non vogliono per far cosa, per andare a combattere lì e quindi per riverniciare la loro aura di squadristi del 21 e alcuni di loro sono stati volontari in Spagna e che sono protagonisti dell'assedio di Ljubljana, dell'assalto alla sinagoga di Spalato, quindi come dire, in quella guerra sporca non ci facciamo naturalmente mancare niente, sono pratiche repressive che proseguono dopo l'8 settembre quando cambia la cornice istituzionale, viene istituito la direttrice Kustenland e arrivano appunto i tedeschi e lì si apre la pagina del collaborazionismo, quindi la milizia della difesa territoriale che è un po' la nostra GNR che si occupa per esempio della Risiera, ma se non sbaglio anche del carcere del Conero a Trieste, dove vengono presi gli ostaggi che poi vengono utilizzati per le stragi, per le rappresali di Opicina, di Via Ghega, non so chi è che ha dimestichezza con queste cose, forse ha in mente la fotografia di questi che vengono utilizzati come bacino di pescaggio impiccati nella casa del soldato a Trieste dove c'era stato un agguato gappista con i corpi che vengono lasciati lì esposti a penzolare per giorni e che poi saranno cremati dentro la risiera. Tutto questo rafforza cosa? L'identificazione tra italiani e i fascisti nella percezione degli sloveni. È un portato di violenza subita enorme, senza tener conto della quale naturalmente non si capisce cosa succede nel 1943 e soprattutto nel 1945. È un elemento senza il quale non si capisce il consenso che Josip Brods, che Tito riesce a costruire al movimento di resistenza jugoslava, che è un movimento di liberazione nazionale che fa appello a un sentimento sovranazionale e quindi prova a racchiudere e a superare le tensioni tra i vecchi nazionalismi storici croati, serbi che hanno avuto anche un atteggiamento differente rispetto a come rapportarsi prima a Vienna e come stare poi dentro il regno di Jugoslavia che nasce alla fine della prima guerra mondiale. Certo si rafforza in chiave anti-italiana, quindi l'identità del movimento di liberazione si definisce in questa prospettiva. Senza queste premesse non si capiscono le foibe, su cui il fact checking del libro di Eric è ancora più serrato, viene fatto sui numeri, si tende diciamo così a essere non precisi, perché poi esser precisi non ci si riesce e quindi non ci sono le fonti per tutta una serie di motivazioni. Più realistici, 500 verosimilmente le persone che sono uccise nel settembre del 43 tra 3-4 mila nella fine primavera-estate del 1945. È un lavoro che ci vuole, non è esercizio come dire di matematica, pensando a Gasparri, a Mieli, a Vespa, la grande leggerezza con cui tutti questi attori pubblici che incidono nella percezione del passato che hanno i cittadini comuni del nostro paese si cimentano con i numeri, quindi milioni, centinaia di migliaia, insomma è come se fosse tra virgolette un gioco. È un terreno difficile questo, soprattutto nel rapporto con la comunità degli esuli, con chi è che ha vissuto quell'esperienza e ha definito la propria identità a partire da numeri di altro tipo. Sullo sfondo c'è la comparazione con la Shoah e con il genocidio, in quegli ambienti si dice molto spesso quello è stata la nostra Shoah, per cui ogni riduzio è percepita come una mancanza di tatto e però questo è un aspetto che non è uno specifico di quella comunità. Io l'ho incrociato per esempio su Sant'Anna di Staziema, che è una strage fatta dai tedeschi, 560 vittime, ancora non sappiamo con certezza perché una ricerca sistematica, esattamente come per Montesole, non è stata fatta. Ogni volta che si apre la discussione sul numero è come se i familiari delle vittime si sentissero messi in discussione il loro trauma, per cui è un aspetto complicato. È forse più semplice smontare altre falsità che stanno attorno alla tipologia delle vittime. Matteo Salvini che a Basovizza nel 2019, come scrivi, dice bambini di Auschwitz e delle foibe devono avere la stessa importanza, poi se si va a vedere in realtà il numero di infanti, di bambini che sono stati uccisi in questo frangente è un numero che è incomparabile, ma perché naturalmente è una logica che è una logica completamente diversa, non ci sta una logica di tipo eliminazionista. E qui appunto la questione che poi è una di quelle che sono più centrali. La sommatoria di foibe e di esodo sarebbe una manifestazione di una pulizia etnica. Qui il terreno è complesso anche rispetto agli usi pubblici della storia, gli interventi istituzionali e politici. Napolitano nel 2007 utilizza questa espressione, poi forse qualcuno lo rende più avvertito e dopo ci va con un pochino più di cautela. Lo scorso anno lo ha fatto anche Mattarella. Non so, te lo chiedo, quest'anno nel suo intervento ufficiale, forse no, la Casellati sicuramente sì, ha riutilizzato di nuovo il termine. Come scrivi c'è quasi un retaggio, non so se definirlo razzista, però l'idea anche con l'effetto dei drammi degli anni 90 e del 900 è che ci sia una sorta di tipizzazione. In quelle zone le questioni politiche le risolvono un po' in questo modo, con la pulizia etnica, per cui è stato fatto negli anni 90 e quindi necessariamente deve essere stato fatto anche tra il 43 e il 45 e attorno a quel momento. Che è una tesi che è articolata su due assunti, poggia su due gambe. La prima, le vittime sono uccise in quanto italiane e non in quanto fasciste. La seconda sono uccise come monito, come pedagogia criminale per spingere tutti gli altri, diciamo così, ad andarsi. In realtà, come appunto fa checking, come dimostri nel libro, nel settembre del 1943 la violenza ha una matrice politica e sociale in una fase in cui si frantuma il monopolio statuale della violenza in quelle zone e si uccidono fascisti, familiari di fascisti. Ragionare di questo naturalmente non vuol dire in alcun modo diminuire la carica criminale o il giudizio su queste pratiche. La vicenda di Norma Cossetto, di cui poi magari parleremo nel dibattito, sta appunto in questi termini. Vengono eliminate figure apicali della società locale, più coinvolte con le politiche portate avanti dal fascismo. Magari c'è già qui anche un'applicazione estensiva della categoria del fascista che qua e là viene a coincidere con quella di italiano. C'è un passaggio del libro sulla Repubblica di Pisino, se non sbaglio, dove dici le organizzazioni della resistenza jugoslava cercano di mettere un freno, comunque di legalizzare queste pratiche repressive in questa fase. Non lo so, ecco, quel passaggio lì non è che mi ha, diciamo così, convinto molto, una delle cose che ti butto là su cui discutere. In ogni caso questa tendenza si fa sistematica tra il primo maggio del 1940, quando Trieste viene liberata, e il 9 di giugno del 1940, quando viene definita la, 45 scusate, non 40, quando viene definita la linea Morgan. E qui con grande chiarezza, pagina dopo pagina, Eric Gobetti spiega che, uno, la violenza è una violenza organizzata e di Stato, c'è il ruolo dei partigiani e il ruolo dell'OSNA, che è la polizia segreta, che ha questo ruolo di intelligence e che ha, come ha raccontato, ricostruito anche Raoul Pupo, mappato la presenza italiana a Trieste, in quelle zone, soprattutto nelle sue figure apicali. C'è una dimensione popolare che fa, come dire, cogliere un'affinità di questa vicenda con tutte quelle pratiche di resa dei conti che sono avvenute anche nel resto d'Italia, nel resto d'Europa, nella fase di transizione dalla guerra al dopoguerra, nelle fasi, diciamo così, di vuoto di potere. È una violenza comunque mirata nella sua matrice principale, serve ad eliminare l'elite politico-culturale italiana, quindi l'antifascismo non comunista, per favorire una mobilitazione pro-yugoslava. In questa fase, come dire, si cerca di spingere anche gli italiani a, come dire, spostare il confine più che si può verso l'Occidente e quindi ad annettere quelle zone al neonato stato jugoslavo. Quarto elemento, il trattamento riservato agli italiani è simile a quello che viene riservato ai domobranci, agli justasha, ai tedeschi, quindi ad altre componenti nazionali presenti nel nuovo Stato e che hanno alle spalle delle responsabilità rispetto alla guerra fascista e alla guerra dell'asse. E anzi, in quei casi il numero delle vittime forse è ancora maggiore perché si è più lontani dalla zona del confine, non ci sono gli alleati. Ormai Tito, dagli alti in avanti, è l'interlocutore principale in quella zona dei vertici alleati. Quindi lì ha ancora di più mano libera. Cinque, quindi il fenomeno lo si comprende ragionando di più in termini politico-ideologici e di classe che non in termini, diciamo così, di nazione e di nazionalismo. Ultimo elemento, su questo si innesta la dinamica dell'esodo. Anche qui la questione delle stime che non è semplice perché in realtà non nasce nel 1945 ma nasce prima insomma. Quindi c'è tutto un tempo dell'esodo dal 41 in avanti che è un esodo classista e fascista, perché sono i ricchi che possono, che se ne vanno e sono forse le persone più coinvolte con la fascistizzazione e con l'esperienza della guerra. Che ha il suo apice all'indomani del 1947 quando si può optare per la partenza in Italia. Si parte per timore delle violenze jugoslave, per paura di perdere ruoli apicali all'interno della società, perché l'Italia in questa fase è percepita come un paese più ricco dove ci possano essere più opportunità rispetto al contesto del regno di Jugoslavia. Anche in questo caso l'esodo è un pezzo di una storia più ampia, di una storia europea che è quella degli spostamenti forzati di popolazione, perché a Potsdam si sceglie di provare a ridisegnare l'Europa così come si era fatto nel primo dopoguerra e in più c'è la componente della guerra fredda con tutto quello che questo comporta. Fai benissimo a citare la presenza dei tedeschi nel cuore dell'Europa, che è una presenza storica che dal Baltico al Danubio è ancora più a sud all'indomani del 1945 e viene completamente cancellata con tutto quello che comporta. Che non si tratta di ridurre l'esperienza degli italiani di quelle zone, ma ripeto di contestualizzarlo. E poi la questione dell'oblio, che è un altro dei temi su cui esiste uno scarto tra la realtà dei fatti e la narrazione, perché non è soltanto un interesse del mondo comunista. Alla fine, soprattutto dopo il giugno del 1948, dopo la rottura tra Tito e Stalin, è quasi più un interesse della maggioranza atlantica che governa il nostro paese di non preoccuparsi, diciamo così, di quella vicenda. Scusi, chiederei al professor Fuletti se può avviarsi alla conclusione. Sì, 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 ho tre minuti, hai fatto benissimo a dirmelo. Che quindi quella vicenda è una di quelle vicende traumatiche che stanno dentro la Seconda Guerra Mondiale, di cui non si è parlato sul piano pubblico nell'Italia del dopoguerra. Eric le richiama, le stragi naziste, le bombe alleate, gli internati militari. C'è una formula efficace che cito spesso, diremo, Bodei. Le amnestie della storia, questa idea che si intreccia amnesia e amnestia, dimenticanza e mancata assunzione di responsabilità. E che serve a capire come avvengono le transizioni dalla guerra al dopoguerra in Italia e in, diciamo così, in Italia e in Europa. Ecco, questo per avervi restituito, spero, insomma, pensando anche a chi è che non l'ha letto, il percorso a tappe, diciamo così, di questo libro, che è un modo di decostruire fatti, narrazioni, fake news, non di definire la verità con la L maiuscola, ma insomma un'ipotesi di interpretazione. Eric scrive, il libro è, cito dall'introduzione, un ponte, una mano tesa, un'esortazione al ragionamento, al confronto con la complessità degli eventi. Funziona sicuramente. Chiudo con una questione, diciamo così, uno si può chiedere, ti torna tutto? Sei d'accordo con tutto quello che scrive Gobetti? Al netto che esiste una simmetria di conoscenza tra chi come me è un lettore di queste cose e chi come lui queste le studia, diciamo così, da vent'anni, che vuol dire la storiografia, le fonti, i testimoni e quant'altro. C'è un passaggio, quando parli dell'esodo, in cui scrivi che chi lascia l'Istria lo fa perché l'ideologia comunista, cito, è percepita come terrorizzante. Allora, è vero che, come dire, alcuni restano, come scrivi. È vero che ci sono gli italiani che fanno la scelta della resistenza in Jugoslavia, però forse non è soltanto una percezione, cioè non è soltanto la guerra e le false notizie di Mark Bloch, cioè nei meccanismi di costruzione delle società socialiste, nella storia dall'ottobre del 17 in avanti, questo è un po', diciamo così, quello che succede. Ora non apro la questione del rapporto bolshevismo-stalinismo perché non finiremmo naturalmente più, però la coincidenza tra nemico politico, nemico di popolo, nemico di classe, il fatto che in quei processi di costruzione di nuovi stati nei perimetri di cittadinanza non si può più essere mencevichi o socialisti rivoluzionari o adesso liberali, azionisti e cattolici, ma insomma non ci sono, diciamo così, in margine. E che lì dentro quindi, che quello sia anche un pezzo di storia del comunismo europeo, diciamo così, e lì ci sta la biografia di Tito, su cui forse qualche riga in più l'avrei spesa perché secondo me aiuta a capire. Ecco, rispetto a quel linguaggio politico, all'emmario della rivoluzione, ecco, di tanto in tanto l'assume forse anche un'impronta di tipo nazionalista. Io penso ai polacchi, agli ucraini della guerra civile, alle cosiddette operazioni nazionali negli anni delle purghe che Tito ha vissuto. L'idea che esistano delle nazionalità che sono nemiche contro rivoluzionari, diciamo così, in quanto tali. Che forse lì ci sia un'impronta, no? Che poi Tito quando arriva a Jugoslavia a quella pagina di storia fa riferimento per provare a gestire il confine europeo. Quindi non è soltanto come dire questo, non è soltanto una psicosi collettiva, si scappa percependo una gravità della situazione maggiore, diciamo così, rispetto a quella che è in realtà. Secondo me c'è un pochino più di realtà e forse si abbandona quelle zone, non soltanto per motivazioni economiche, ma perché in Italia non è soltanto che si sta meglio e ci sono più opportunità, ma forse perché c'è anche un perimetro di democrazia, lacerata, complicata, protetta, la chiamiamo diciamo così come si vuole. Però libertà e democrazia in quel momento, almeno dal mio punto di vista, stanno a ovest. Ora detta così sembra John Wayne che chiude i berretti verdi e che vede il sole che va giù insomma nel mare all'opposto, per cui passatemi diciamo così l'espressione. Però spero di essermi fatto intendere. Quindi c'è anche questo, una pagina di storia del comunismo europeo, che forse avrei chiamato di più all'interno del libro. Ciò detto, ne discutiamo qui da un punto di vista scientifico, sono tesi, sono interpretazioni. Da qui a rappresentare il libro come giustificazionista e riduzionista naturalmente ce ne passa e chiudo con il punto da cui sono partito. Questa è una questione su cui essere assolutamente avvertiti. Come dice il mio compagno di stanza in dipartimento, che è un autentico liberale, non sono d'accordo con te, ma darei il sangue perché tu ti possa esprimere. E quindi questo è una cosa che assolutamente non va dimenticata. Quindi io posso fare altro che ringraziarti, perché immagino che avrei scritto questo libro anche in questa situazione non sia stato semplice. Scusatemi se l'ho fatta lunga. Grazie al professor Fulvetti. Devo dire che sono moltissimi gli spunti che ci ha fornito il professore. Darei subito la parola al professor Gobetti, così diamo anche modo di poter, se vuoi, rispondere o eventualmente rispondere nella seconda parte della nostra presentazione. Prego. Ok, grazie, grazie mille. Grazie al professor Fulvetti per questa bellissima presentazione che veramente ha messo tutti i temi principali in scena e anche con una giusta attenzione ai nodi problematici che ci sono, senz'altro, quindi è corretto segnalarli. Grazie naturalmente l'invito a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo. Dunque, comincerei solo con un paio di precisazioni di cose che hai accennato, che volevo precisare meglio così per chi ci ascolta. Allora, il libro di Filippi, che è in uscita nella stessa collana, si intitola prima gli italiani, prima gli italiani sì ma quali, tra parentesi, e ovviamente affronta il tema della costruzione di identità nazionale, eccetera, quindi è in qualche modo sì legato ai suoi lavori precedenti, ma anche un po' uno sguardo differente. Ed è estremamente interessante perché insieme agli altri lavori che hai già citato di Greppi, di Colombini, in qualche modo sono tutte opere che sono complementari tra di loro, cioè che creano, come dire, affrontano tutti quei temi che sono temi storici, ma che sono credo anche rilevanti nella nostra identità nazionale, nel nostro approccio anche contemporaneo alla storia e alle politiche della memoria. Quindi anche questo credo sia un libro molto importante. In qualche modo anche questo è complementare al mio perché, come giustamente dicevi, c'è una parte del libro mia dedicata anche a questo elemento di che cosa vuol dire essere italiani in quei territori, che cos'è l'italianità, eccetera, anche se molto rapida ovviamente nel contesto di quel libro. Un'altra cosa che avevi accennato rispetto alla voce di Wikipedia, sì posso dire perché in realtà esisteva anche prima la voce di Wikipedia, ma è stata, diciamo, inizialmente manomessa, nel vero uso del termine, nel senso che proprio c'è stato qualcuno che ha inserito delle frasi diffamatorie sostanzialmente all'interno della voce, che sono state però presto cancellate, e poi è stata rimaneggiata più volte da altri autori, sia con l'intento, diciamo così, appunto di dimostrare la mia inattendibilità, sia con l'intento invece di difendere il mio lavoro, quindi da varie prospettive. Però insomma, come spesso succede, Wikipedia è un campo di battaglia, cioè è uno dei fronti dove si combatte la politica della memoria. Uno dei fonti più significativi, se posso dire, perché comunque alla fine su Wikipedia va più gente che in una via, come dire, che in una piazza dove c'è un monumento, probabilmente, quindi è più significativo addirittura di certi luoghi della memoria vera e propria. Quindi questo spiega perché c'è tanta compatibilità, diciamo, in quelle pagine, soprattutto appunto su temi particolarmente delicati come questo. Quasi tutte le pagine su questi temi, FOIB, ESODO, eccetera, sono dei campi di battaglia, si possono proprio vedere tutte le correzioni, le cose, i dubbi, i punti interrogativi, eccetera. Allora, come giustamente dicevi, io ho scritto questo libro essenzialmente proprio per cercare di colmare questa distanza che vedo, sempre più evidente tra il discorso pubblico e i risultati della ricerca storica. Appunto la ricerca, che non è solo la mia, giustamente hai più volte ribadito che io sono tanti anni che mi occupo di questi temi, ma appunto in realtà io per questo libro mi sono basato su ricerche in realtà di moltissimi colleghi che più a lungo di me, più approfonditamente di me, si sono interessati a questi temi specifici. E ovviamente è chiaro che tenendo conto che ci sono diverse interpretazioni, diversi punti di vista sulle vicende, però mi è sembrato di vedere nel corso delle mie ricerche che ormai ci sia una, come dire, un accordo di massima, almeno sulle questioni principali, appunto le questioni delle cifre, il tipo di fenomeni, eccetera, che invece non, che comunque è molto distante dal racconto pubblico che ne viene fatto. E come giustamente dicevi, alla fine gli elementi che sono, che io, su cui anche insisto nel libro, che sono il punto fondamentale, è che la ricerca è sempre aperta appunto alle diverse interpretazioni, ai dubbi, alla complessità degli eventi, ma è questo che in qualche modo manca nel discorso pubblico. In un certo senso, diciamo, per certi versi anche logicamente, è chiaro che il discorso pubblico tende a semplificare una vicenda storica. Il problema è che la semplifica sulla base di assunti che non sono quelli dei risultati della ricerca, e quindi in qualche modo la semplifica sulla base o di falsità o di colossali obli, colossali rimozioni, in particolare rispetto ai temi fascisti, eccetera. E quindi questo è il vero problema. A questo punto non so se magari provare subito a, brevissimamente, a affrontare quelle due giuste, comprensibili critiche che mi hai mosso. Vabbè, insomma, nel senso, accendavi alla Repubblica di Pisino, che forse definire che c'era un tentativo di legalizzare la violenza è forse un po' eccessivo. Ora, non ricordo esattamente se ho usato quel termine, può essere, ma diciamo che in quelle due o tre frasi in cui parlo della Repubblica di Pisino il mio intento era quello di dare l'idea che i partigiani tentassero, diciamo, in qualche modo di governare la resa dei conti che in quel momento stava avvenendo, e quindi di dargli una logica che fosse una logica politica e non una logica di vendette personali, diciamo così. Credo che sia questo, ecco, l'elemento che io volevo sottolineare, poi non so se appunto magari non sono stato chiaro. Lo stesso sulla questione del... tu dici che gli esuli tra le varie motivazioni c'è anche questa percezione della... di paura, diciamo, verso l'ideologia comunista. Sì, diciamo, è uno degli elementi, io ne nomino tanti, no, di motivazioni, questo dico che è uno degli elementi. Devo dire che è interessante il tuo punto di vista su questo, nel senso che io sono convinto che ci sia una paura a prioristica, però è vero anche, e comunque lo dico nel libro, che c'è anche una concretezza invece della vita quotidiana sotto il comunismo che si sta instaurando in quelle terre, in quel periodo, che è altrettanto, se non più, motivante, diciamo, verso la scelta di andarsene. Quindi c'è una percezione a priori, ma poi di fatto c'è anche una vita quotidiana, una realtà concreta, ecco, che in qualche modo spinge le persone ad andarsene. E in questa concretezza ci sta anche la diffidenza verso gli italiani e l'italianità, che condivido con te, è uno degli elementi che spingono anche le persone ad andarsene. Non se ne vanno via solo gli italiani, vanno via anche solo i vene croati, quindi la motivazione della partenza non è esclusivamente l'italianità, ma sicuramente c'è anche questo elemento, sia nella scelta di chi va via, ma sia nell'atteggiamento particolarmente oppressivo, particolarmente diffidente da parte delle autorità locali nei confronti degli italiani. Ho qualche perplessità, ma ci devo ragionare meglio su quest'idea che una delle motivazioni sia anche il fatto di andare verso la democrazia, diciamo così, partire da un territorio dove evidentemente non c'è un sistema democratico, che è quello della Yugoslavia nel dopoguerra, per andare verso un paese democratico. Io non so quanto nell'immediato dopoguerra fosse così rilevante questo elemento e fosse percepibile in maniera chiara che l'Italia era un paese democratico e invece la Yugoslavia no. C'era anche molta confusione rispetto a che cosa voleva dire la democrazia. Teniamo anche conto che gran parte di queste persone non avevano neanche vista la democrazia, cioè erano cresciuti o nati in un regime autoritario e quindi non so quanto fosse percepito che davvero l'Italia sarebbe diventata una democrazia o era in corso l'installazione di un regime democratico, a differenza, in fondo anche la Yugoslavia si dichiarava un paese democratico, una democrazia popolare si diceva all'epoca, quindi non lo so. Però è un punto di vista interessante su cui effettivamente bisognerebbe ragionare. Ma tutto questo in qualche modo che stiamo dicendo adesso appunto ha a che fare con il modo in cui bisogna fare storia, cioè il modo in cui bisognerebbe affrontare comunque tema storico, che è assolutamente giusto e logico, e non denota mancanza di rispetto verso le vittime di un fenomeno storico. E' ovvio che stiamo parlando di fenomeni di violenza, di fenomeni in cui vengono uccise delle persone, da una parte e dall'altra. E però noi riguardiamo, con lo sguardo dello studioso, che cerca di analizzare, e come dire, il nostro modo da studiosi di avere rispetto per le vittime è proprio quello di cercare di capire per quale ragione sono state vittime e di che cosa, qual è stato il fenomeno che ha portato alla loro uccisione o alla loro fuga da quel paese. Quindi questo è il punto fondamentale, ed è però il punto su cui sembra che non sia, come dire, sempre meno sembra consentito fare questo tipo di lavoro. E questa è la cosa che io trovo particolarmente grave. Quindi il mio lavoro appunto è orientato, da una parte, a ribadire quelli che sono i risultati della ricerca storica, di fronte a un discorso pubblico che mi pare non li prenda in considerazione, e dall'altra anche ribadire che deve essere consentito agli storici parlare, approfondire, dubitare, esprimere diversi punti di vista, diverse interpretazioni su una vicenda storica. Non è accettabile che ci sia una verità di Stato che viene imposta per legge a cui ti devi adeguare. Eppure è proprio la direzione che si sta prendendo. Io questo lo dico in maniera forse addirittura più preoccupata di quando ho scritto il libro, perché le ultime, ultimissime proprio notizie riguardo, per esempio, alla mozione approvata alla Regione Veneto, a cui facevi cenno prima, c'è stata, non so se lo sapete, credo tre giorni fa, una richiesta di modifica della legge riguardo al negazionismo della Shoah, che includa anche il negazionismo delle foibe, legge nazionale in questo caso, da parte della Lega, quindi con l'intento di portare quel tipo di proposta che è stata approvata in Veneto e in Friuli anche a livello nazionale. Per cui a quel punto sarebbe impossibile fare un incontro di questo tipo. Cioè sostanzialmente quello che noi stiamo facendo oggi, se quella legge venisse approvata, sarebbe impossibile, perché noi stiamo contestualizzando una vicenda, e contestualizzare una vicenda significa essere etichettati come negazionisti delle foibe e quindi non poterne parlare pubblicamente. E questo credo che sia un problema grave. È vero che c'è, è giustamente sottolineato la grande solidarietà che mi è stata espressa in questi mesi di fronte alle minacce che ho ricevuto, ad esempio l'impegno di tanti istituti storici della resistenza in tutta Italia che da tanti anni lavorano su questi temi in maniera molto seria, molto coraggiosa, molto approfondita, anche con viaggi della memoria, come giustamente hai sottolineato. ne ho fatto uno anch'io al confine orientale con caratteristiche molto simili a quello di Lucca che nominavi. Ci sono molti studiosi che lavorano su questo, ci sono molti studiosi che hanno ribadito anche in questi ultimi mesi, settimane, appunto la volontà di sottrarsi da questa verità di Stato che si vuole imporre. Però c'è un clima di intimidazione nei confronti della ricerca storica in generale che è davvero preoccupante. Che passa attraverso, diciamo, intimidazioni giornalistiche e politiche, le definirei, perché quando riguardano il mio caso personale, posso dirlo con certezza, c'è sia spesso un intervento di tipo politico, c'è qualche esponente politico che esprime qualche espressione diffamatoria nei miei confronti, ma anche moltissimi giornali, tendenzialmente, almeno nel mio caso, tranne il caso dell'Avvenire, che non ho capito il motivo per cui ho pubblicato quell'articolo, veramente, secondo me, abbastanza inqualificabile, appunto quando si dice che contestualizzare significa giustificare, cioè di cosa stiamo parlando, cioè contestualizzare è la fonte, è il motivo principale del nostro lavoro, non so come dire, cioè è la base del nostro lavoro, quindi se non contestualizzo non sto facendo il mio lavoro. Vabbè, insomma, a parte quel caso, però in gran parte si parla di giornali di destra o di estrema destra, cioè la Primato Nazionale, il Giornale, il Secolo d'Italia, quindi vabbè, giornali di questo tipo, però sono tanti, sono numerosi, sono compatti, hanno un obiettivo preciso, quindi c'è un clima comunque intimidatore da tutta questa parte politica preoccupante. Ci sono le minacce, che certamente possono essere in gran parte leoni da tastiera, però insomma, questo è anche dovuto al fatto che quest'anno non ci sono state presentazioni in presenza per via del Covid, ma se avessi fatto presentazioni in presenza credo che avrei avuto delle serie di difficoltà anche concrete, anche fisiche, non solo virtuali, diciamo, a presentare il mio lavoro. E poi appunto questi tentativi di censura vera e propria e di creazione di verità di Stato che sono davvero preoccupanti. Quindi è in corso una campagna davvero di intimidazione della storia, io direi, cioè del lavoro degli storici, che certo per ora è legata a questo tema specifico, però appunto secondo me deve essere fermata finché siamo in tempo perché riguarda tutti noi e riguarda in fondo non solo noi storici ma la nostra democrazia sostanzialmente, quindi è un problema davvero molto serio. E poi dall'altra parte c'è una narrazione dominante che è frutto di un'egemonia politica e culturale della destra in Italia, che esiste secondo me dall'avvento al potere di Berlusconi, direi sostanzialmente, che si è, diciamo, è aumentata nel corso degli anni e che però adesso è evidente, cioè è un'egemonia politica e culturale che consente ad esempio il fatto che i due film realizzati su questo tema sono entrambi, il primo prodotto, il secondo coprodotto dalla RAI, quindi prodotti con soldi pubblici e che hanno una prospettiva assolutamente, diciamo, a dir poco nazionalista se non in qualche modo revanchista o addirittura neofascista. Però sono prodotti dello Stato italiano, sono prodotti della TV di Stato che in qualche modo quindi viene monopolizzata da una destra politica che anche sta acquisendo sempre più anche un'egemonia culturale. L'ultimo film prodotto Rosso Istria viene acquistato in molte regioni d'Italia e distribuito gratuitamente nelle scuole. Lo stesso si fa con una graphic novel prodotta da una casa editrice vicino a casa Pound che viene distribuita gratuitamente nelle scuole di mezza Italia. Cioè è un'offensiva diciamo propagandistica che riguarda tutto il paese e che anche questa è piuttosto preoccupante che è accostata al clima intimidatorio le censure le minacce diventa davvero un problema per il paese non soltanto per noi che facciamo questo lavoro. E direi che il problema che forse vedo ancora più grande in tutto ciò è proprio che questo quando dico egemonia intendo dire che non è che semplicemente come dire i neofascisti fanno liberamente il loro lavoro di propaganda e che i neofascisti in qualche modo questa narrazione proposta dai neofascisti è diventata in qualche modo la narrazione ufficiale dello Stato italiano e quindi è stata acquisita e riutilizzata anche da partiti che non sono affatto neofascisti o da individui da politici o da diffusori della divulgatori della storia che non sono affatto neofascisti quando io dico che Paolo Mieli parla di centinaia di migliaia di vittime delle foipe non sto dicendo che è un cretino o che è un fascista ci mancherebbe altro è solo che quel tipo di egemonia politico-culturale fa sì che persino uno come Paolo Mieli o uno come Bruno Vespa che non sono di per sé dei fascisti dicono le cose che dicono i fascisti perché è quello l'immaginario comune e vale per la casalinga di Voghera come vale per il divulgatore di storia o spesso anche per appunto leader politici che non sono affatto di destra e questo è piuttosto preoccupante io credo che ci sia un diciamo una 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 problematica anche politica su questo e qua chiudo chiudo su questo tema perché poi darei voce magari alla discussione più volentieri però cioè in qualche modo sono convinto che sono ci siano due obiettivi politici diversi che talvolta si sommano ma che spesso rimangono separati ma che alla fine sono basati su come dire un'opinione ideologica sulla questione non sui dati storici che vengono sostanzialmente ignorati in entrambi i casi e che però portano purtroppo secondo me in definitiva nella stessa direzione che è quella di rivalutare il fascismo e criminalizzare la resistenza sostanzialmente cioè da una parte c'è una un'impostazione diciamo che definirei neonazionalista che che come dire ha diverse diverse prospettive interpretative sulla vicenda ma che sostanzialmente porta a dire che l'Italia è stata privata ingiustamente dei territori appartenenti al nostro paese che gli italiani sono stati vittime in quanto italiani e che in qualche modo quindi c'è stata un'aggressione verso l'italianità che noi dobbiamo appunto ricordare in qualche modo creando una sorta di martirologio di questa vicenda e questa interpretazione secondo me è interpretazione diciamo dello Stato italiano cioè di tutte le sue le sue parti istituzionali e in qualche modo di tutte le sue parti politiche almeno rappresentate in Parlamento a prescindere appunto magari con diverse interpretazioni più o meno sfumate ma comunque sostanzialmente è questa che in qualche modo tutti i partiti politici hanno bisogno di una sorta di legittimazione o comunque utilizzano questa vicenda come una sorta di legittimazione politica sulla base del sentimento nazionale diciamo così e già questo mi sembra problematico sinceramente in un contesto che dovrebbe essere quello della riappacificazione tra paesi che hanno vissuto esperienze traumatiche 80 anni fa nel contesto dell'Unione Europea della riconciliazione tra paesi all'interno dell'Unione Europea e poi c'è un altro elemento che è quello invece del proprio del neofascismo e qui e su questo certo qua ci sono solo alcuni partiti politici in particolare Fratelli d'Italia se posso fare nomi che hanno un interesse specifico nel costruire quel tipo di immaginario in cui in questa vicenda i fascisti sono solo vittime i crimini fascisti non vengono neanche nominati e quindi in qualche modo c'è un'assimilazione tra le vittime e i fascisti per cui le vittime diventano fasciste in questa interpretazione quindi non sono italiane ma sono fasciste e il fascismo quindi è vittima in qualche modo quindi come dire anche dando un peso alle vittime un peso di responsabilità rispetto al fascismo che non si meritano in cui però l'accento sta sulla criminalizzazione della resistenza jugoslava certo diciamo sulla base della partenza ideologica quindi ribadendo che l'ideologia giusta era quella fascista l'ideologia sbagliata era quella comunista ma anche di fatto mettendo in discussione gli stessi valori della resistenza e dell'antifascismo in questa maniera i due i due film realizzati su questo tema il cuore nel pozzo e rosso istria che appartengono in qualche modo a due epoche storiche diverse ormai perché il primo è stato fatto immediatamente ridosso della giornata del ricordo nel 2005 e il secondo invece nel 2019 quindi di pochissimo tempo fa e raccontano in qualche modo due storie diverse anche se hanno un'impostazione simile in cui appunto c'è una criminalizzazione dei partigiani jugoslavi che vengono rappresentati in maniera grottescamente feroce e insomma barbara con accenti evidentemente razzisti ma l'aspetto significativo è proprio la rappresentazione delle vittime che appunto nel primo film vengono rappresentate come genericamente italiani dove appunto c'è il prete il soldato la ragazza il bambino cioè chiunque si può identificare in quelle vittime e che quindi rappresenta diciamo la prima interpretazione certamente appunto nazionalista ma in qualche modo epurata dagli aspetti ideologici mentre il secondo film più recente è un film in cui la rappresentazione delle vittime è esplicitamente ideologica cioè le vittime sono fascisti vengono rappresentate senza pudore con in camicia nera che inneggiano il duce e la loro salvezza arriva dall'intervento nazista quindi sono i nazisti sono i liberatori mentre i partigiani sono i criminali e questo in qualche modo appunto capavolge gli stessi valori fondanti della nostra della nostra democrazia è chiaro che non è appunto mentre il primo film era una fiction portata dalla Rai in occasione della prima giornata del ricordo quindi è chiaro che era in qualche modo voleva essere in qualche modo lo sguardo l'autorappresentazione del paese rispetto a questa vicenda questo secondo film è un film esplicitamente di parte però è un film che viene comunque proiettato tutti gli anni il 10 febbraio sulle televisioni di Stato appunto è stato acquistato distribuito in varie scuole d'Italia viene sponsorizzato dalle regioni amministrate dall'estrema destra quindi insomma è comunque un film che ha una grande diffusione e termino solo con questo i film molto più del lavoro che noi possiamo fare sono quelli che costruiscono l'immaginario è vero che quello che dici che ormai tanti studenti universitari e ovviamente tutti noi studiosi siamo ben consapevoli che in quel contesto i crimini fascisti i nazisti sono ben più gravi arrivano prima sono significativi e in qualche modo aiutano a comprendere il contesto di violenza che si sviluppa in quell'epoca ma questo ce lo diciamo noi che lo sappiamo l'abbiamo studiato e i nostri studenti che ci ascoltano parlare ma la maggior parte delle persone costruiscono il loro immaginario sulla base dei film che vedono in televisione il 10 febbraio quindi sulla base di questi film e in particolare di questo secondo che da due anni sta creando un immaginario che è questo sostanzialmente c'è un immaginario in cui i nazisti sono liberatori e i partigiani comunisti in particolare ma i partigiani sono dei criminali di guerra sostanzialmente e su questo secondo me dovremmo interrogarci appunto prima che sia troppo tardi perché questo in qualche modo appunto finisce per mettere in discussione gli stessi gli stessi valori della nostra della nostra costituzione della nostra democrazia prego a voi grazie grazie mille grazie mille per questi due interventi ora apriamo la fase di discussione di domande e l'apriamo noi così ovviamo al problema del rompere il ghiaccio sì mi approfitto solo per ricordare agli ospiti che non sono gli speaker di chiudere la webcam se è possibile ecco solo questo grazie io appunto avevo due due domande considerazioni barra domande diciamo così la prima proprio su questo punto della della memoria collettiva la memoria collettiva italiana che evidentemente è un po' distorta come abbiamo detto finora e tanto più che non non si conosce nulla io credo il grande pubblico conosca pochissimo dei crimini fascisti veri e propri perché sì forse si è cominciato a parlare un po' di più del colonialismo italiano ma appunto del campo di di arbe ma anche solo banalmente della riserva di San Sabba io penso che non si sappia praticamente nulla al di fuori delle aule accademiche questo è abbastanza incredibile e quindi mi chiedo anche come cioè fino a che punto questa memoria collettiva si sia strutturata su queste rimozioni e allo stesso tempo e quindi in qualche modo collegata invece come è percepita dagli striani diciamo da quelli che hanno esulato da quelli che sono rimasti invece come oggi gli eredi evidentemente non più gli detti interessati vivono questa cosa come si sentono davvero in questo proposito io ricordo di una polemica che non ho vissuto direttamente ma ricordo di aver letto che aveva coinvolto Lidia Bastianich che è la madre di Joe Bastianich un po' più famoso di lei lei è originaria di Pola nata a Pola credo appena dopo la guerra comunque che era stata appunto travolta da una serie di critiche abbastanza pesanti all'inizio degli anni 2000 quando aveva partecipato ad un incontro negli Stati Uniti in ricordo del Columbus Day quindi una giornata che serviva anche per le associazioni italo-americane a celebrare un po' l'italianità e appunto era stata criticata perché lei aveva sempre rivendicato una sua identità diciamo istriana quindi contemporaneamente italiana e croata e gli italo-americani molte associazioni italo-americane insomma dicevano si chiedevano se fosse davvero la persona giusta allora per rappresentare l'Italia una che diceva di non sentirsi pienamente italiana sì ma non solo e quindi queste erano un po' le mie le mie due domande non so se Walter volevi sì io ne avrei molte altre non lo so se il professor dovrebbe rispondere sì sì prego anche se Gianluca vuole aggiungere qualcosa io non monopolizerei solo io no assolutamente erano rivolte entrambi no perché appunto sulla questione dei crimini secondo me Gianluca può dire altrettanto di quello che posso dire io io dico solo che io allora la questione dei crimini fascisti secondo me è proprio l'elefante nel salotto come dico spesso cioè in termini psicoanalitici vuol dire quel grande trauma che tu hai lì davanti a te ma fai finta di non vedere noi abbiamo un grande trauma perché perché l'Italia ha partecipato da protagonista alla seconda guerra mondiale dalla parte della Germania razzista e in quel contesto ha commesso innumerevoli crimini di guerra prima nel creato coloniale e dopo in Europa il campo di Arbe è un luogo particolarmente simbolico da questo punto di vista perché vabbè si trova in Europa si trova a uno sputo dal nostro confine perdonate il termine e quindi è un luogo di facilissimo accesso come dire potremmo appunto organizzare i viaggi della memoria costantemente al campo di Arbe ma invece nessuno sa nemmeno di che cosa stiamo parlando probabilmente forse anche qualcuno dei nostri ascoltatori cioè il peggiore campo di concentramento italiano dove sono morti prevalentemente di fame distenti circa 1500 persone quasi tutti civili quasi tutti deportati dalla Slovenia semplicemente perché residenti nei territori dove era attiva la resistenza durante la guerra io su questo dopo tanti anni di tentativo di trovare finanziamenti per organizzare appunto viaggi della memoria per organizzare per creare un sito web che ricordasse questa vicenda eccetera ho lanciato da poco un crowdfunding quindi un finanziamento dal basso per ottenere fondi per appunto per creare questo tipo di memoria pubblica perché appunto a livello istituzionale è ben difficile ottenere questo tipo di attenzione però appunto esattamente come l'elefante nel salotto io credo che fino a quando noi non riconosciamo questo nostro trauma non diventeremo mai adulti il riconoscere il trauma vuol dire anche assumersi le responsabilità per quello che si è fatto e quindi maturare e questo secondo me è un esempio di quanto sia immatura la nostra democrazia in qualche modo e appunto a quali rischi andiamo incontro costantemente come ho già detto per quanto riguarda gli esoli devo dire che anche io ho avuto molta esperienza simile a quella che hai appena citato cioè io conosco moltissimi esoli e devo dire nella stragrande maggioranza dei casi anche quando addirittura anche quando mi dicono ah ma tu sei un negazionista tu però sminuisci eccetera in definitiva quando però loro raccontano raccontano sostanzialmente cose molto simili a quelle che dico io perché sostanzialmente la loro esperienza che è un'esperienza vera diretta di chi ha visto coi propri occhi certo è un'esperienza traumatica è un'esperienza di sofferenza vissuta e che quindi in qualche modo vuole difendere la propria la propria esperienza questo è vabbè aprirebbe la grande macro questione del rapporto tra storia e memoria e quindi della differenza di punti di vista che ovviamente ci sono tra chi scrive un libro di storia su una vicenda che non lo tocca personalmente chi invece racconta la sua esperienza traumatica vissuta sulla propria teglia quindi è chiaro che la prospettiva è diversa però ciononostante i testimoni di quell'esperienza parlano tutti ma tutti parlano della complessità della loro della presenza nazionale in quel territorio e della loro stessa identità nazionale io non credo di aver mai sentito un esule dire io sono italiano al 100% cioè magari l'ha detto ma poi se vai a chiedere dici ah sì però mia nonna era ungherese tutto così ma va benissimo questo non inficia niente anzi rende più complessa e più viva un'identità che comunque esiste e quindi però appunto quella complessità spesso non viene accettata almeno a parole e non rienta appunto al discorso pubblico e un'altra cosa anche per esempio rispetto al rapporto foibe esodo e eventuale pulizia etnica su questo anche lì magari a parole ti dicono sì ho subito la pulizia etnica perché suona bene e si sente dire quindi sta nel discorso ma poi concretamente quando raccontano la propria esperienza nella stragrande maggioranza dei casi sì diciamo le violenze della fine della guerra sono in qualche modo una memoria spaventosa che li ha spaventati li ha terrorizzati in quel momento che quasi mai ha toccato dei loro parenti stretti perché appunto le vittime le foibie sono talmente poche sul numero delle persone residenti in quel territorio che è molto improbabile che in realtà qualcuno abbia avuto un parente in foibato ma appunto la scelta di andarsene da quel territorio non è mai rappresentata come la conseguenza di quella paura e nemmeno come un'espulsione da parte delle autorità jugoslavi addirittura spesso le autorità jugoslavi lo impediscono o comunque creano dei problemi delle difficoltà ad andare via quindi spesso la storia è un tentativo di andarsene quando le autorità te lo impediscono più che un'espulsione da parte delle autorità quindi è veramente un po' capovolta rispetto a quello che invece ci viene spesso raccontato peraltro queste esperienze appunto dei singoli esuli invece contrastano con quella che è il discorso ufficiale invece portato avanti delle associazioni degli esuli teniamo anche conto che l'associazionismo degli esuli ormai è quasi un mestiere nel senso che esistono ormai tantissime associazioni degli esuli molte di queste allora alcune di queste esistevano fin dall'inizio e sono state spesso non sempre ma spesso monopolizzate dalla destra fin dall'inizio perché per ragioni che adesso non abbiamo detto ma ci sono nel libro siccome questa vicenda non ha avuto grande cittadinanza nei principali partiti politici nel dopoguerra la destra ne ha approfittato per in qualche modo impadronirsi della questione e quindi fin dall'inizio in qualche modo c'è stato un tentativo di monopolizzare le associazioni degli esuli da parte dell'estrema destra negli ultimi anni siccome questo tema è diventato un tema fondamentale un tema come dire uno strumento politico fondamentale per alcuni partiti di destra si sono create nuove associazioni non sono state a maggior ragione come dire cannibalizzate quelle che già esistevano da parte degli esponenti di estrema destra ma in questo caso stiamo parlando proprio di casa pound cioè proprio destra veramente estrema veramente neofascista in maniera esplicita che hanno creato addirittura ex novo associazioni pseudo associazioni di esuli una di queste è il comitato 10 febbraio che è quello che sponsorizza le intitolazioni a norma in varie parti d'Italia che proprio se andate a leggere la loro la loro pagina dicono esplicitamente che loro non hanno niente a che fare con gli esuli semplicemente vogliono usare politicamente la questione e quindi quello è un caso emblematico e quindi certo che queste associazioni sono quelle che maggiormente come dire utilizzano quel tipo di fanno un maggior uso di quel tipo di narrazione non appunto anche lì sia quella nazionalista sia quella neofascista a seconda di quanto sia impostata in maniera politica la loro posizione queste nuove spesso sono proprio esplicitamente neofasciste grazie mille per le risposte io avrei altre domande avrei anche dei in realtà stavo riflettendo appunto su quello che ha scritto lei anche sul libro che ci ha detto per quanto riguarda anche come arrivi prima al cinema per certi versi agli italiani di quanto non arriviamo noi storici poi storici e in realtà in Italia c'è un grande problema di narrazione proprio diciamo da parte della RAI di comunicazione storica e quelli che lei cita sono alcuni dei tanti strafalcioni che probabilmente fa la RAI negli ultimi anni mentre leggevo il suo libro io stavo ragionando un po' dei titoli controversi degli ultimi anni e mi veniva in mente il libro credo fosse un docufilm su Cesare Mori sul prefetto di Ferro in cui un po' c'è una sorta di mancata considerazione di quello che è stato il fascismo in Italia ma ce ne sono stati tanti altri anche i film di Martinelli cioè soggetti che comunque partecipano alla vita culturale del paese descrivendo per certi versi narrando la storia al posto nostro ma che probabilmente lo fanno solo per delle finalità evidentemente politiche almeno nel caso per esempio di Martinelli non faccio riferimento tanto alla serie tv per quanto riguarda Cesare Mori però è chiaro che in Italia c'è una mancanza non so se è una mancanza storica da parte della comunque della della RAI o comunque di chi produce diciamo film serie tv su temi storici o se è una mancanza probabilmente non lo so neanche da parte degli storici di avere una relazione con l'universo diciamo culturale che va poi banalmente in tv o nel cinema in Italia questo probabilmente diciamo è una domanda che mi pongo spesso ma poi magari se vuole rispondere vediamo dopo in realtà avevo due domande proprio sul libro una più lei in realtà ha risposto più o meno alla domanda che io volevo porre sarò breve cioè è chiaro che evidentemente la questione appunto delle foive diventa l'appannaggio della destra e dell'estrema destra in Italia più o meno dagli anni 90 o meglio da dopo gli anni 90 lei nel libro cita la questione proprio anche di mani pulite un po' come una sorta di rottura della narrazione politica di certa destra italiana però quello che sarei curioso di capire è qual è la cultura della destra italiana in relazione alla questione delle foive perché è chiaro che lei sottolinea il fatto che non c'è un oblio della questione delle foive in Italia è chiaro che la gestione anche degli esuli che scelgono la via dell'esilio vengono in parte o accolte a volte stigmatizzati dai membri del partito comunista cita alcuni casi anche per quanto riguarda la stazione di Bologna insomma dei ferrovii di Bologna eccetera però mi piacerebbe comprendere se ad un certo punto la destra italiana ha finito il periodo di Mani Puliti con appunto la cosiddetta seconda repubblica con Berlusconi decide in maniera autonoma quasi dal nulla di riprendere il mito delle foive e considerarla la nuova Shoah o se c'è un retroterra culturale proprio dell'estrema destra dato che comunque tra l'altro viene da un universo culturale che è quello dell'MSI quindi quello che è molto più legato a una certa storia italiana di estrema destra che probabilmente ha una relazione con il tema delle foive in maniera molto più diretta di quanto non lo ha la nostra destra il nostro centrodestra o l'estrema destra degli ultimi 20-30 anni questo per quanto riguarda insomma la questione proprio sulla percezione delle foive da parte della destra italiana la seconda domanda che io mi ponevo e che in realtà rivolgo ad entrambi e questa diciamo si prefigurerà la mia carenza storica sul tema mi piacerebbe comprendere effettivamente qual è la percezione dei partigiani italiani della questione yugoslava durante la diciamo la liberazione della della yugoslava della yugoslavia cioè giustamente è difficile considerare la questione etnica anche per le modalità con cui sono state espresse adesso cioè chi si sente italiano chi non si sente yugoslavi o chi si sente yugoslavo ma non si sente italiano quindi evidentemente anche la questione etnica è molto problematica ma da parte dei partigiani lei cita la questione anche quasi numerica cioè il fatto che i partigiani sono quasi tanto quanto quelli qui in Italia ma lì la questione della yugoslavia come si pone cioè da parte dei partigiani c'è l'idea di dover liberare in quanto italiani la yugoslavia o è una cosa molto più probabilmente ed è quello che immagino sia c'è molto più una zona grigia c'è uno spazio grigio in cui c'è una partecipazione in cui non necessariamente rientra la questione nazionale o è semplicemente l'idea di dovere respingere il fascismo dalla yugoslavia e se in quel caso lì si prefigurano diciamo per certi versi è stato citato anche Pavone la possibilità di considerare quello che succede in yugoslavia insomma in quel periodo lì un po' quello che succede qui in Italia con insomma appunto pensavo al libro di Pavone con la guerra civile cioè semplicemente una guerra di liberazione una guerra civile o diciamo quale perché risulta molto complesso anche capire effettivamente un po' qual è la reazione da parte diciamo dei partigiani insomma mi rendo pure conto che comunque il libro è fatto in maniera ad essere abbastanza divulgativo e quindi molti temi risultano un po' delle parentesi aperte ecco lascio a voi la parola chi vuole intervenire tra voi due ecco grazie io se posso rispondo subito al volo su quest'ultima cosa poi lascio la parola a Gianluca per il resto allora io non so se ho capito benissimo la tua domanda magari forse Gianluca può approfondire un altro pezzo a me vengono in mente due risposte diverse perché forse non so quale delle due cose volevi chiedermi o forse entrambe quindi va bene no per quanto riguarda i partigiani italiani che combattono nella resistenza jugoslava vabbè a parte che ti rimando il mio libro precedente a questo che si chiama La resistenza dimenticata c'è anche un documentario che si chiama Partisani e quindi quello te lo consiglio perché così ti può chiarire meglio il quadro però sostanzialmente diciamo quello è un pezzo di una di un'altra grande vicenda della seconda guerra mondiale su cui diciamo non dico che ci sia un oblio ma sostanzialmente c'è ben poca considerazione cioè il fatto che la resistenza è un fenomeno transnazionale in gran parte cioè ci sono tantissimi partigiani non nazionali all'interno delle resistenze nazionali per intenderci cioè in Italia è pieno di sovietici jugoslavi disertori tedeschi alleati usciti scappati dai campi di prigionia che combattono nella nostra resistenza e in Jugoslavia anche ci sono appunto decine di migliaia di italiani ma anche altri appartenenti ad altre identità nazionali che combattono nella resistenza jugoslava e lo fanno appunto per tante ragioni ma essenzialmente perché è in corso nella seconda guerra mondiale tra le altre cose uno scontro che forse direi ideologico quasi certo è in parte ideologico però ideologico forse sminuisce un po' o forse dà addirittura troppo peso non so come dire però non c'entra esattamente l'obiettivo perché secondo me è più la percezione che come dire che il nazismo sia la parte sia la parte sbagliata e per molti italiani che hanno combattuto dalla parte del nazismo quando c'è l'opportunità di scegliere la scelta è quella di combattere contro il nazismo non di combattere a favore della Jugoslavia o a favore dei comunisti gran parte di questi soldati che diventano partigiani non sono affatto comunisti sono anzi tendenzialmente anticomunisti però sentono che il nazismo è peggio e che in quel momento bisogna combattere il nazismo comunque appunto nel mio libro questa cosa è affrontata in maniera molto molto approfondita questo la resistenza dimenticata è proprio il cuore della questione invece non so se tu facevi riferimento anche a che cosa pensa la resistenza italiana in Italia del tema del confine e su questo ovviamente le questioni sono molto complesse la questione perché ovviamente ci sono tante resistenze in Italia cioè mentre la resistenza jugoslava in qualche modo è guidata solo dal partito comunista ed è molto centralizzata la resistenza in Italia invece è fatta di tante bande ovviamente collegate tra loro attraverso CLN ma con prospettive diverse sia politiche sia nazionali eccetera quindi come dire la parte monopolizzata dal partito comunista è quella che è più accognente nei confronti dell'ipotesi di uno spostamento verso l'occidente del confine come si sa viene spesso nominato il fatto che Tognatti ha venduto quella parte d'Italia la Yugoslavia eccetera la parte invece più legata più nazionale diciamo così della resistenza in particolare proprio sul confine orientale penso le brigate Osoppo ad esempio era invece più propensa a cercare di mantenere il più possibile il confine diciamo a est naturalmente tutti erano consapevoli cosa che a noi oggi appunto nel racconto che viene fatto oggi sembra una cosa assurda ma all'epoca erano tutti ben consapevoli che così come alla fine della prima guerra mondiale l'Italia aveva vinto la guerra e quindi aveva acquisito dei territori a est alla fine della seconda guerra mondiale essendo l'Italia un paese sconfitto avrebbe perso dei territori questo lo sapevano tutti quello che andava capito era dove dove mettere questo confine e ovviamente sulla questione si innestavano tanti elementi cioè gli elementi elementi di tipo nazionale sicuramente cioè in qualche modo appunto nella logica nazionalista e comunque di identità nazionali dove sta il confine in un territorio dove convivono popolazioni differenti è impossibile mettere un confine giusto puramente giusto diciamo così in un territorio come quello tant'è vero che nonostante tutto alla fine il confine è stato messo in modo per cui è rimasta una minoranza nazionale italiana all'altra parte e una minoranza nazionale slovena e croata da questa parte che ancora oggi esistono in entrambi i casi quindi non c'era modo in ogni caso di portare un confine dividendo nettamente le popolazioni e ovviamente ci sono però anche elementi ideologici politico ideologici che si innestano in questo ragionamento che hanno anche a che fare con ciò che accade alla fine subito dopo la fine della seconda guerra mondiale quando comincia a costruirsi quello che poi Churchill definirà la cortina di ferro quindi la separazione dei due blocchi ideologici tra il blocco comunista e quello occidentale dove la questione Trieste diventa un problema internazionale globale non è più un problema tra gli italiani e gli sloveni e croati che abitano lì è un problema tra le grandi potenze del mondo e quindi in qualche modo sulla pelle degli esuli si giocano anche i destini dell'Europa nel dopoguerra Gianluca prego no io non so se prima volete raccogliere perché vedo che c'è una mano alzata da 20 minuti quindi se volete se la volete sentire prima della mia risposta e quindi visto che ho già parlato molto prima sentitevi liberi quindi non non ci sono problemi sì forse vale la pena effettivamente discutere la cosa beh Enrica Salvatori se vuole aprire il microfono sì prego sì c'è ancora perché magari in frattempo magari li sei ralzata per sbaglio non lo so possibile in caso contrario comunque se qualcuno o qualcuno del pubblico vuole fare una domanda alzi pure la mano e apre il microfono e puntiamo se no intanto eh no io la questione è quella che aspetta forse la questione è quella che c'è una domanda sì sì da Marianna Medda prego salve io non so se riuscite a sentirmi sì sì prego allora la mia non è proprio una domanda è più una considerazione un pensiero quindi chiedo scusa se puoi magari ascoltarla appare un po' sciocca ecco però io prima si parlava di programmi televisivi che spingono l'opinione pubblica verso una determinata visione no quello che mi fa pensare da sempre e che ora che sono una mamma mi fa pensare ancora di più è che eh istituti preposti per esempio alla cultura e all'istruzione tralasciano argomenti necessari per l'affermazione di identità di cittadini eh cittadini che prima sono di un paese di una città e poi insomma di una nazione che possiede una carta di identità che molto spesso non viene letta oppure viene letta in parte eh che non viene conosciuta da tutti ma da solo da chi prende in mano appunto la carta e vuole leggere anche il dettaglio e quando magari si chiede agli insegnanti perché non si fa una storia del territorio la risposta è sempre la stessa è perché i programmi ministeriali questo ci dicono e questo dobbiamo fare quindi col passare del tempo poi la storia di un determinato paese o di una determinata città o regione fa brutti scherzi magari si dimentica non pensando che poi magari ci sono delle persone magari un po' più sveglie che fanno di tutto perché questa memoria venga in qualche modo traviata o si ricordi solo una parte oppure totalmente cancellata e poi magari riscritta a proprio piacimento ecco questa è una cosa che mi sentivo di dire perché mi rendo conto che i programmi di studio molto spesso si tralasciano delle cose che invece sono assolutamente necessarie e in questo momento storico come in tutti i momenti storici secondo me sono davvero davvero necessarie grazie a lei abbiamo è ritornata Erika Salvatori se vuole fare la sua domanda poi abbiamo Giovanni Mennillo prego grazie no io intanto vi volevo ringraziare perché per l'occasione di di ascoltare questa questa presentazione visto che sono stata con all'interno dell'associazione italiana per la public history una dei firmatari dei vari appelli in sostegno di Enrico Gobetti e insomma assoluto della difesa del mestiere dello storico che ci stava a cuore era proprio nella dimensione della public history che volevo fare un ragionamento e sentire anche quello che ne pensavate nel senso che dei tanti libri io sono una medievista quindi non è certo il mio campo l'ambito di cui stiamo state discutendo tutti i libri diciamo di storia quelli che all'inizio citava Gianluca quelli pieni di note di di riferimenti chiaramente hanno di per sé un 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 pubblico ristretto no quello che quello che invece diciamo ha fatto Eric proprio perché non ha tutte quelle notte non ha tutti quei quei riferimenti ha raggiunto un pubblico più ampio e ha scatenato quello che ha scatenato pur senza raggiungere l'effetto dei video che dei film che sono stati invece citati e allora la mia domanda è senza negare spazio a nessuno cioè senza negare spazio ai libri scientifici ovviamente tendenza a negare spazio ai libri divulgativi non sarà non vedete la possibilità di fare altro cioè di mettere in piedi altri altri sistemi che smontino che provino a smontare la polarizzazione perché una cosa che diciamo questo uso dei social in questi ultimi anni ci ha ci ha insegnato è che dall'esasperazione della polarizzazione non se ne esce cioè non è dicendo chi sta chi lavora bene chi lavora male riferimento banale se vi ricordate prima del covid tra vaccinisti e antivaccinisti adesso gli antivaccinisti sono più facilmente dominabili ma non certo per bontà della comunicazione che c'era prima della pandemia proprio perché un'eccessiva polarizzazione portava semplicemente a crearsi camere d'eco distinte quindi io mi chiedo se e come mettere in campo altre strategie altre strategie diciamo di storia più partecipata non ho idee è proprio una domanda autentica sul sul concreto per esempio mi viene da chiedere a Eric ma hai pensato per caso a lavorare con uno sceneggiatore per buttare giù una fiction diversa quindi per occupare come storico quello spazio che abbandonato da una storiografia scientifica anche divulgativa anche di buona divulgazione come la tua ha aperto varchi che sono stati riempiti da altri stop grazie mille vogliamo raccogliere anche l'ultima domanda così ok prego Benillo credo mi sentite vedete si prego ok allora io volevo fare un paio di considerazioni e domande e poi una curiosità premetto non sono uno studioso della materia anche se mi interessano molto le questioni diciamo le vicende dove c'è una memoria divisa perché storicamente le rendo in generale interessanti interessanti allora intanto un po' hai risposto ma vorrei più delle usciudazioni su una cosa perché Ciampi Napolitano a un certo punto hanno hanno dato questa grossa concessione alla destra anche proprio teorica facendo una giornata che tra l'altro anche nel nome ricorda un po' la questione della Shoah quindi qual è stata la motivazione politica per cui a un certo momento si è fatta questa scelta motivazione che mi sembra sia anche per i protagonisti che l'hanno sostenuta inconciliabile con il neonazionalismo almeno alcuni dei protagonisti quindi mi viene da dire probabilmente l'unica prospettiva che può legare insieme il consenso intorno a questo modo di presentare il problema di cui stiamo parlando è quell'anticomunismo senza comunismo che ha inaugurato un po' Berlusconi insomma è quell'anticomunismo che serve più a creare un'identità alternativa a un comunismo che non esiste più che poi invece a demonizzare o a dare un giudizio sul comunismo in quanto tale però ecco secondo te che comunque hai studiato questi temi nello specifico perché c'è un consenso politico di questo tipo è una concessione così grande che si fa alla destra proprio da un punto di vista teorico perché gli si dà la possibilità poi di poter discutere di certi modi di certe vicende poi c'è un paradosso anche che non viene però non viene utilizzato come arma diciamo per controbattere anche il neonazionalismo invece di destra che è quello che non lo possiamo chiamare un nazionalismo quello titino ma però c'era una forte caratterizzazione identitaria cioè come hai anche un po' accennato il professor Polvetti nella creazione di una di una anti-italianità c'era anche la volontà di creare un'identità titina un'identità yugoslava quindi c'è un elemento nazionalista quindi il neonazionalismo dice guardate cosa ci hanno fatto un altro nazionalismo che è un po' un paradosso credo non lo so la vedo un po' ironica come come base di discussione e poi una curiosità e concludo scusa se mi sono dilungato noi siamo appunto coinvolti direttamente con storie di persone quindi a livello anche proprio di storie personali ecco la memoria divisa è questo ma dall'estero ci sono studiosi che hanno guardato questa vicenda in che modo l'hanno guardata cioè ci sono studiosi tedeschi americani in che modo viene vista la questione e come viene contestualizzata da persone appunto non italiane che non hanno vissuto direttamente quella 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 vicenda grazie lasciamo la parola anche a Stefano per l'ultima domanda si poi scusate non ho inserito il cognome nella nell'accettazione sulla chiamata zoom ma vi ringrazio innanzitutto per per l'iniziativa e insomma per la discussione che è ricca di di spunti sono un dottorando dell'università di Roma mi presento insomma e non mi occupo esattamente del tema delle foibe però mi occupo di fascismo ho potuto fare insomma dei collegamenti delle riflessioni e ho letto anche vari testi sulla questione delle foibe innanzitutto cioè mi ha preceduto insomma la persona la persona che mi ha preceduto ha anticipato delle osservazioni che volevo condividere con voi cioè finora si è parlato tanto di colpe della destra giustamente di come la destra da insomma più o meno radicale cavalca la vicenda delle foibe ma si è parlato molto poco delle responsabilità della sinistra secondo me e secondo me in quello che è avvenuto sulla questione foibe è stato il dibattito legislativo sulla sull'approvazione che poi insomma è stata nel 2004 della legge che ha sancito il giorno del ricordo e basta insomma anche leggere soltanto il primo articolo brevemente per far capire come sia francamente molto discutibile questo tipo di legge insomma la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale il giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani di tutte le vittime delle foibe dell'esodo dalle loro terre degli istriani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale ora a me sembra che la dicitura più complessa vicenda del confine orientale c'è qualche problema di audio no mi sembra che la mi sembra che la la dicitura più complessa vicenda del confine orientale sia stata inserita tra l'altro in un secondo momento e non subito nell'ita di approvazione della legge e dovrebbe essere esattamente il contrario cioè dovrebbe essere una giornata che ricorda la complessa vicenda del confine orientale e specificando bene che cosa si intende per complessa vicenda e poi il tema delle foibe che adesso insomma è strettamente collegato questo per far capire insomma qual è secondo me la sfasatura anche a livello legislativo e poi leggere proposta dall'onorevole Roberto Menia all'epoca di alleanza nazionale ex MSI che ha trovato un avvallo insomma all'epoca dei democratici di sinistra e poi il partito democratico quindi secondo me è interessante andare a scoprire di svelare in questo quadro quanto le responsabilità all'epoca di chi ha voluto creare quella legge e in quel modo e quale fu il dibattito parlamentare dell'epoca abbiano poi ripercussioni su quella che è stata la memoria pubblica dell'oggi e sull'interrogarci del perché oggi appunto abbiamo magari il fumetto di Ferro Gallico su Norma Cossetto piuttosto che l'illustrazione di Skoll che è un noto cantante neonazista ad esempio sulla problematica delle foibe poi vorrevo aggiungere due riflessioni un po' più storiche per smontare un po' quella che è la ricostruzione che si fa oggi del tema innanzitutto è stato giustamente citato da chi mi ha preceduto anche dall'autore del libro come ad esempio le foibe si dividono sostanzialmente in due momenti le foibe del 43 e poi le foibe del maggio 45 e nel settembre 43 va sottolineato come secondo me fu una cioè non solo secondo me ovviamente fu una ribellione essenzialmente contadina una specie di ad esempio lo storico Conti la paragona una giaccheria contadina alla ribellione del 43 e sappiamo le ribellioni contadine quanto sono truci quanto sono state truci nel corso di tutta la storia quindi vediamo come non fu una ribellione sistematicamente organizzata dalla resistenza jugoslava ma fu una ribellione di popolo e diciamo di base e contro l'occupante fascista e quindi anche questo anche questo questo aspetto secondo me andrebbe messo in luce per far capire come non fu una pulizia etnica organizzata scientificamente dall'esercito jugoslavo e si parla di 500 morti nel settembre 43 e e come assolutamente vada rifiutata etnica che ci viene propinato oggi perché l'esercito di liberazione jugoslavo combatteva contemporaneamente contro i nazisti che erano tedeschi contro i fascisti che erano italiani contro i cetnici che erano serbi e contro gli ustasha che erano croati cioè era una era sostanzialmente una 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 guerra politica una guerra di liberazione politica che poi in un secondo momento come è stato detto ci fossero ci furono dei diciamo un innesto di tematiche nazionaliste poi nell'esodo è un discorso che ugualmente è una segnità approfondito però va secondo me messo in primo piano l'elemento politico soprattutto nella fase resistenziale della della lotta di liberazione dell'esercito popolare jugoslavo e e poi secondo me sono d'accordissimo con quanto è stato osservato prima cioè si può intendere e questa è un po' una sorta di di domanda suggestione tutta questa questione che è stata sventolata sulle foibe con questi dichiarazioni ad esempio di Gasparri che ha parlato di non so quanti mila morti 500 la speculazione politica di destra assecondata ripeto sia nel momento della stesura della legge ma anche dopo da tanta parte della sinistra come una conferma come una sorta di conferma di quello che è l'oblio rispetto ai crimini di guerra italiani non solo nel Mediterraneo ma ma ad esempio la statica e la Somalia cioè può essere considerata la vicenda delle foibe come un ulteriore diciamo scusante per non parlare di queste questioni grazie grazie dai la parola al professor Gobetto al professor Fulvetti così dicevo se posso prima di lasciarti la parola così chiudi ha notato un paio di questioni che sono venute fuori dalla discussione naturalmente che è interessantissima la prima è la questione dell'elefante nella stanza è la questione della mancata storicizzazione della continuità dello Stato e di come l'esperienza fascista passa dentro la Repubblica e ci passa con personaggi che poi vanno a ricoprire anche ruoli apicali insomma i diplomatici restano gli stessi i militari in buona misura restano gli stessi i magistrati è lo stesso quindi tutto questo poi dopo incide nella distribuzione del potere e incide anche su quelle che sono le narrazioni cioè voglio dire perché si fatica a raccontare e a parlare pubblicamente della guerra sporca del fascismo insomma esattamente per questo motivo quando lo sceneggiatore di Fascist Legacy che è Kirby scrive il famoso libro in lingua inglese che deve essere Rizzoli ne acquisisce i diritti è pronto per essere stampato e poi dopo viene mandato al macero questo perché c'è all'interno del libro un personaggio che si chiama Giovanni Ravalli che è un criminale di guerra italiano che è stato condannato in Grecia che poi viene liberato per un lavorio di De Gasperi e della presidenza del consiglio dei ministri e che però farà poi la sua carriera prefettizia farà il prefetto a Palermo e si prende a cornate con Piola Torre poi farà il prefetto a Roma negli anni 70 con tutto quello che questo comporta voglio dire la storia è questa in termini diciamo così di distribuzione di potere e poi bisogna ragionare sulle narrazioni che sono state prevalenti nel dopoguerra quando Graziani viene processato voglio dire scrive il suo libro le requisitorie vengono stampate lo ristampa non so se in 8, 9, 10 copie voglio dire queste sono pubblicazioni che arrivano e quindi incidono nel modo in cui gli italiani che hanno bisogno di conoscere di sapere si costruiscono un'immagine su cosa sia stata la Repubblica Sociale italiana e su cosa sia stato il fascismo nei grandi numeri negli anni 60 e negli anni 70 arrivano le enciclopedie sulla seconda guerra mondiale che venivano distribuite e appuntate andate a vedere in che modo viene raccontato il fascismo diciamo così e questo potrebbe si potrebbe proseguire a lungo la seconda questione è il giorno del ricordo allora io ho detto all'inizio forse sarebbe anche il tempo di farla una storia ecco e capire il contesto in cui quell'istituzione avviene che è un contesto di rinnovata sensibilità per la storia della seconda guerra mondiale per i crimini c'è un paradigma vittimario di lettura della seconda guerra mondiale che non è negativo in quanto tale il problema è la strumentalizzazione che ne viene fatta perché si ragiona delle vittime sullo sfondo ci restano i partigiani che vengono tipizzati soltanto come partigiani comunisti che sono anche loro stanno dentro l'antinazione per molti versi e quindi si innestano una serie di distorsioni l'impressione che ho io per questo ti facevo la domanda quando è che è cambiato qualcosa è che siano cambiati gli equilibri politici e gli equilibri culturali primo perché al di là delle discussioni in Parlamento chi è che ha interpretato la legge istitutiva del giorno del ricordo dal 2005 2006 in avanti l'ha fatto come dire anche in un certo contesto di equilibri politici a livello nazionale e nella gestione degli enti locali le regioni i comuni c'erano ancora le province quindi voglio dire la politica della memoria che è stata portata avanti dentro la cornice della legge non è stata all'inizio una politica della memoria fascista o neonazionalista poi cos'è cambiato almeno per come la vedo io è cambiato che progressivamente dal post grande crisi 2008 2009 2011 sono cambiati gli equilibri politici perché poi quando si arriva alle elezioni del 2018 è l'onda lunga di uno spostamento a destra degli equilibri politici del nostro del nostro paese è cambiato che la lega ha ridefinito il suo profilo di stampo neonazionalista recuperando quegli ambienti culturali che avevano promosso l'istituzione del giorno del ricordo e quello è diventato come dire uno degli architravi della loro identità culturale questo è il motivo per cui è per tutti noi diventato diciamo così più problematico lavorare e raccontare quello che è successo in una prospettiva lunga io ho come avuto l'impressione come dire che si è scattato il ragionamento l'abbiamo istituito noi nel 2004 però lo raccontano quelli dalla parte di là e allora è cambiato il modo di riempire le iniziative che vengono fatte per il 10 di febbraio rendendo più complicato il lavoro dell'istituto di trieste il lavoro di eric di eric gobetti è stato un disegno sistematico di costruzione di un'egemonia culturale che è passato prima da salvini poi è passato dalla meloni è stato ribaltato a livello locale ha utilizzato il web e quindi wikipedia che è un luogo in cui si fanno le dispute dei wikipediani e che non sono mai neutrali e il mondo dei social perché la bestia ha il corrispettivo se uno lo studiasse a livello locale chi è che inanima dei quotidiani online chi è che rimbalza quelle notizie sui propri profili e con il loro diciamo così seguito per cui forse andrebbe anche quel processo culturale secondo me storicizzato cioè studiato con gli strumenti che gli storici dovrebbero avere a disposizione chiudo sulla questione della fiction che poneva Enrica Salvatori è un problema verissimo poi come dire io non sono così convinto che i film che vanno sulla Rai abbiano tutto questo impatto perché le cose sono un po' cambiate mi preoccupa più la dimensione del social perché la famosa casalinga di Boghera la quale in questi anni ne abbiamo dette voglio dire di tutti i colori probabilmente vede anche lei ecco se ha 65 anni vede meno Rai 1 e comincia a spippolare su uno smartphone che è il primo canale di accesso alla rete per lei perché non ci arriva dopo aver conosciuto il web ma ci arriva conoscendo diciamo così i social e quello è un problema però su questo è un terreno su cui bisognerebbe cominciare a lavorare insomma vedevo prima qui collegata Sheila Moroni che è una collega dell'Università di Firenze che ha studiato tra le altre cose i period drama e come vengono prodotti in ambito a crosassone negli Stati Uniti d'America lì come dire c'è una sensibilità degli storici sicuramente più public e hanno una interlocuzione con il mondo degli sceneggiatori molto più diretta e gli sceneggiatori sono più formati nelle discipline storiche per cui lì forse si è capito di più che quello era come dire un terreno da battere per provare a avere delle armi un pochino più appuntite in questa sfida culturale grazie lasciare la parola al professor Gobetti se vuole così concludiamo sì concludiamo se no facciamo notte no no intanto vi ringrazio veramente perché è stato un dibattito molto bello molto interessante sono state tirate in ballo tante cose io non so se sono in grado di rinominarle tutte e dare delle risposte sensate ma provo a tirare un po' le fila beh ad esempio se hai parlato di scuola io adesso mi sto interessando un po' alla manualistica scolastica per capire in che modo viene costruita anche quello anche la scuola è un grande costruttore di immaginario di conoscenza e di interpretazione di fatti storici no non so se voi vi ricordate i vostri manuali che cosa avevano sul tema delle foive ma io sto guardando un po' quelli in uso attualmente diciamo il tema delle foive c'è sempre una mezza paginetta non tanto quasi sempre nella prospettiva che abbiamo detto sostanzialmente con grosse problematiche ma secondo me l'elemento più interessante per quanto ci riguarda è che non c'è una parola sui crimini fascisti in quasi nessun manuale poi ci sono anche quelli virtuosi però in quasi nessun manuale c'è una parola ai crimini fascisti se non magari in riferimento ai crimini in Africa in Etiopia quindi niente sulla Jugoslavia addirittura in moltissimi manuali non c'è neanche l'invasione della Jugoslavia da parte dell'Italia questa è una cosa incredibile per cui quell'immaginario per cui che appunto ci viene portato dai film sul tema in cui sembra che la Jugoslavia abbia invaso l'Italia cioè che i partigiani di Jugoslavia abbiano invaso improvvisamente il territorio italiano pacifico è assolutamente confermato da un manuale scolastico in cui non c'è nessun riferimento all'invasione della Jugoslavia e quindi quando si parla lì Foibe uno pensa vabbè i Jugoslavi hanno invaso l'Italia evidentemente perché sennò come si spiega poi è chiaro che ci sono gli insegnanti virtuosi che invece spiegano bene la vicenda ma qua veramente si tratta di fare un grossissimo lavoro ognuno nel suo campo per cercare di affrontare innanzitutto l'elefante nel salotto di cui abbiamo detto prima cioè la macro questione di che cos'è stato davvero il fascismo e che cosa sono stati veramente i crimini fascisti poi sono assolutamente d'accordo sul fatto che la questione del giorno del ricordo nasce in un contesto di paradigma vittimario che appunto è un nuovo modello interpretativo diciamo così della vicenda della seconda guerra mondiale è assolutamente non condannabile in sé ma che porta a delle problematiche tra cui anche questa sicuramente direi di più in un paradigma vittimario è accostato a un paradigma neonazionalista che appunto che non è semplicemente il prodotto dell'egemonia culturale di destra ma è in qualche modo il prodotto di un'epoca culturale che è successiva alla fine della guerra fredda e dello scontro ideologico in cui rientra il timore per il dominio dell'Unione Europea il timore di perdere la propria identità nazionale il timore della globalizzazione c'è tanti aspetti che in qualche modo fanno parte della nostra società oggi che non possiamo ignorare o semplicemente condannare come va bene il nazionalismo chi se ne frega certo a me preoccupa perché io studio il nazionalismo da tanti anni e so come vanno a finire queste storie però è chiaro che va visto con serietà questa cosa va guardata con serietà non semplicemente come il frutto della propaganda neofascista ecco e in questo paradigma quindi si comprende la scelta del giorno del ricordo come una scelta bipartisan in cui c'è una responsabilità grossa da parte anche di partiti di sinistra moderata appunto di esse all'epoca che appunto fanno quella scelta in questo grande contesto culturale appunto il paradigma vittimario è la riscoperta delle identità nazionali peraltro appunto in un'epoca in cui la Lega era un partito antinazionale tra l'altro quindi un'epoca molto diversa da quella di oggi e in cui però i DS vedono anche questo lo accendo nel libro vedono anche l'opportunità di legittimarsi come partito come vero partito nazionale in un contesto in cui essendo eredi del partito comunista vengono percepiti come comunque eredi di una storia internazionalista e quindi non strettamente nazionale e anche in qualche modo in cui si sentono diciamo parte di quella di quell'ideologia sotto attacco in quell'epoca storica che è l'ideologia comunista sotto attacco anche oggi in realtà ma insomma oggi non c'è più nessuno che la difende su quanto per quanto riguarda l'eventuale lavori di sceneggiatura anche l'utilizzo di strumenti diversi dal libro nella divulgazione storica io sono assolutamente d'accordo ma se qualcuno me lo propone io lo faccio volentieri ma io ho realizzato due documentari nella mia vita è stata l'esperienza più faticosa più antieconomica che abbia sperimentato e non lo consiglio neanche il mio peggior nemico di fare documentari film sarebbe bellissimo farli ma ci vuole 30 volte più di soldi e quindi di conseguenza anche le grandi strutture che mettono a disposizione l'opportunità di farlo appunto tipo la RAI ma se la RAI fa i film neofascisti mi sembra improbabile che faccia un film in cui faccio il riluscianeggiatore poi tutto può succedere perché io non mi tiro indietro volontieri anzi lancio un appello alla RAI per realizzare un film su questo tema mi propongo come sceneggiatore no a parte gli scherzi non è non è non è semplice c'è stata una domanda molto interessante sulla su come gli studiosi internazionali vedono questa questa questione devo dire non ho approfondito moltissimo ovviamente ho letto qualcosa ma non tantissimo devo dire da quello che vedo c'è un'attenzione a un aspetto che io accendo nel libro ma su cui effettivamente non entro troppo nel merito o almeno non utilizzo proprio quella prospettiva ma invece ritengo che sia importante cioè guardare a come un territorio complesso da un punto di vista etno-nazionale sociale come quello del nostro confine orientale dell'Alto Adriatico sostanzialmente venga travolto dal dal nazionalismo e dalle grandi ideologie del novecento fino a portare in qualche modo una scomparsa di quella complessità o comunque una riduzione fortissima di quella complessità che è un fenomeno che non riguarda solo questo territorio ma riguarda tanti territori d'Europa che nella prima metà del novecento sono stati in qualche modo come dire c'è stata una semplificazione etnica nazionale sociale molto brutale a causa di questi questi grandi scontri epocali che avvengono appunto nella guerra dei trent'anni potremmo dire la guerra dei trent'anni europea c'è la prima e seconda guerra mondiale con tutto quello che c'è in mezzo e che riguardano appunto gran parte dell'Europa centro-orientale in realtà e quindi è un po' questo lo sguardo che io vedo soprattutto da parte degli studiosi meteo-europei quindi austriaci tedeschi che si occupano di questi temi in particolare soprattutto gli austriaci per ovvie ragioni e poi c'è un'attenzione questo l'ho notato soprattutto invece da parte degli studiosi anglosassoni invece alle politiche della memoria su questo tema cioè il caso delle foibe è un caso studio a livello internazionale proprio su come la politica si sia impossessata di un tema storico e l'abbia anche stravolto in qualche modo addirittura in qualche caso quasi capovolgendone il significato e su questo devo dire anzi gli studiosi internazionali sono ancora più bruttali di me in questa in questa visione perché è stupefacente visto da fuori diciamo e quindi questo aspetto è molto è molto studiato e c'è molto interesse penso di aver più o meno risposto risposto a tutto abbiamo fatto del 18.42 secondo me bicchiere di vino ci sta ci sta certo purtroppo non possiamo andare in osteria a Pisa cosa che mi creda manca a tutti sarà per la prossima però no a parte di scorsi vi ringrazio tantissimo e ringrazio Gianluca veramente tanto voi due insomma a tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie grazie a voi ragazzi grazie grazie Eric ciao grazie a tutti e a tutte buonasera buonasera a presto grazie vi ringrazio per le risposte grazie grazie alla prossima per chi vorrà il lottato di